Da consigliere comunale di Taranto mi domando ma le ditte a Taranto possono fare i comodacci propri e per quale motivo non vi sono i controlli e per quale motivo nonostante le segnalazioni nessuno interviene. Ci troviamo a Taranto appunto al quartiere Salinella precisamente in via Margrande 33. Proprio un anno fa, circa un anno fa, la team eseguì dei lavori, vedete qui il tombino con tanto di scritta team e per realizzare questa opera fu costretto ovviamente a rimuovere, a rompere dei mattoni. Questi mattoni giacciono qui abbandonati da un anno, abbandonati. Uno potrebbe dire vabbè ma l'amministrazione comunale che ne può sapere? Giusto, ma nel momento in cui i cittadini hanno segnalato il problema, si sono rivolti ai vigili urbani e sono trascorsi altri mesi senza che nessuno intervenisse. È mai possibile una cosa del genere? Ma Taranto, ripeto, cos'è? Terra di nessuno? Uno può fare i comodacci propri? Comandante, qui c'è stata una segnalazione e lei comandante doveva immediatamente intervenire e la invito a intervenire presso chi di competenza dell'amministrazione comunale per fare due cose. Una, per rimuovere immediatamente questo materiale di risulta. Due, perché bisogna andare dai signori della team, bisogna prendere la testa di questi operai che meriterebbero di essere licenziati, visto che non hanno provveduto a far rimuovere né loro né chi comunque avente a che fare con loro, con la team, bisognerebbe prendere queste persone e forse metterle con la testa nel tombino, lo dico ovviamente in senso metaforico, perché non è possibile uno scempio. Allora, l'operaio doveva provvedere, se non ha provveduto lui doveva chiamare chi di competenza, ma dicono giustamente, visto che il comune di Taranto se ne frega altamente e non interviene, noi facciamo i comodacci nostri. Questo è il risultato, che piaccia o no. Ma con me consigliere comunale cambia questa musica, questo andazzo. Qui intanto bisognerà intervenire subito e poi vedremo chi avrebbe dovuto rimuovere il materiale e non l'ha fatto. Grazie.